Amici di Onda Libera TV, buonasera, siamo a Senigallia, presso il punto vendita della cooperativa Ridotti Bene. Siamo insieme al presidente della cooperativa, Samuele Pasqualini, che ci descriverà l'attività di questa nuova esperienza, di questa cooperativa, veramente molto interessante. Buonasera a tutti, sono Pasqualini Samuele, il presidente di Ridotti Bene, una cooperativa nata un anno fa, una cooperativa sociale, che come prima attività ha aperto un punto vendita, dove ci troviamo adesso, che si chiama QB, quanto basta, QB Senigallia. L'esperienza della cooperativa nasce, tutti i soci della cooperativa, i soci fondatori, inizialmente eravamo in nove, facevano parte dello stesso gas, che sono i gruppi di acquisto solidale. Da questa esperienza abbiamo pensato, ma perché non allargare il giro di persone, non cercare di sensibilizzare a questi argomenti, che sono un'economia più sostenibile, un consumo di prodotti più consapevole, biologici, locali, solidali, perché non allargare il giro di questa iniziativa alla più ampia platea possibile? Quindi abbiamo deciso di aprire questa cooperativa. Infatti tutti i prodotti che sono all'interno di questo negozio hanno una caratteristica che può essere prodotti biologici, prodotti locali, prodotti solidali, quindi derivanti da cooperative sociali, oppure prodotti ecologici. E quindi abbiamo cercato di raggruppare tutti questi prodotti. Abbiamo 100 fornitori diversi, tutti contattati direttamente, quindi non facciamo un uso smodato del distributore, ma principalmente ci forniamo da produttori locali, quindi piccoli. La difficoltà nella gestione comunque è ripagata dalla soddisfazione del vedere le persone che si avvicinano a questo mondo, persone che prima erano lontane dal modo di vedere il consumo in questa maniera. Infatti il nome della cooperativa stesso ha un significato, può sembrare scherzoso e anche un po' scaramatico, ridotti bene, però ha un significato un po' più profondo. Ridotti nel senso di ridurre i rifiuti, per esempio ridurre gli sprechi, molti dei nostri prodotti sono sfusi, abbiamo una vendita di vino sfuso, di detersivi sfusi, di cereali sfusi, pasta sfusa, quello che si può fare sfuso, noi cerchiamo di farlo sfuso. In questo modo c'è una riduzione del rifiuto, dell'imballaggio, ma anche un abbassamento del prezzo, quindi riusciamo a offrire un prodotto di ottima qualità, anche biologico, ma un prezzo abbastanza contenuto. E ridotti bene anche nel senso di rieducazione, rieducazione a un consumo più critico, quindi per esempio è vero, un pane fatto con la pasta madre piuttosto che un pane commerciale la differenza è proprio evidente. A parte la durata che dura una settimana piuttosto di due giorni, ma proprio la differenza in termini di contenuti energetici, di contenuti di qualità, del contenuto nutrizionale, è totalmente diversa. So che il vostro scopo principale non è solo quello di vendere, ma fate anche un'azione culturale, quindi fate anche incontri culturali di divulgazione di questa nuova filosofia di commercio, diciamo. Esattamente, esattamente sì, infatti quella del commercio, della vendita del prodotto è il mezzo per arrivare nelle case delle persone, ma per arrivare a questo dobbiamo comunque spiegare questo tipo di prodotti, spiegare questo tipo di economia. Facciamo diversi incontri sia proprio legati al biologico, abbiamo fatto diversi incontri sul bio, ma anche diversi incontri culturali con autori di libri, per esempio, recentemente. E ne faremo altri con personaggi dell'economia, con personaggi appunto della letteratura, chiamiamola alternativa, anche se ormai non è più alternativa, ma è molto, fortunatamente molto attuale. E quindi no, l'opera di sensibilizzazione è il fulcro per dare spazio a questo tipo di consumo più critico. E i prossimi appuntamenti culturali? Allora, prossimi appuntamenti culturali abbiamo una manifestazione teatrale in cui si spiega, si valorizza l'utilizzo dello sfuso di alcuni detersivi che possono essere biologici o ecologici. Abbiamo un incontro con il gruppo del Movimento della Decrescita, questi sono gli incontri che ci sono a breve. E poi maggio-giugno tutta una serie di incontri che saranno pubblicizzati sul sito che abbiamo, www.cubisenigallia.it e il sito Facebook che abbiamo. Questa filosofia si vede già dall'arredamento, ho visto che avete riutilizzato il legno, poi vedo che è trattato anche in modo ecologico. Sì, abbiamo riutilizzato per esempio dei bancali che ci hanno dato dei nostri fornitori e anche come scelta per esempio delle vernici, abbiamo utilizzato delle vernici naturali, abbiamo la fortuna di avere per esempio Spring Color di cui vendiamo anche i prodotti qui vicini, abbiamo ovviamente scelto per le pareti o per il mobilio, comunque quei tipi di colori proprio per trasmettere questo messaggio. E' vero, vendiamo il biologico e l'ecologico e lo utilizziamo anche. L'ho utilizzato a pieno. E non so, come ultima cosa vuoi dare il recapito telefonico e l'indirizzo del punto vendita? Sì, noi siamo in via Traversa Cesano numero 1 alla Cesanella a Senigallia, una traversa del lungomare. Bene, ti ringraziamo e facciamo sinceri in bocca al lupo per questa attività. Speriamo che prenda piede il più possibile. Speriamo, grazie mille. Amici di Onda Libera, un saluto. Grazie mille.